In questo tutorial vediamo come risolvere problemi reali con l'uso delle equazioni di primo grado. Partiamo da questo esempio. Paolo è nato 5 anni dopo Maria e fra tre anni l'età di Maria sarà il doppio di quella di Paolo. Che età hanno Paolo e Maria? Indicando con x l'età di Maria sappiamo che Paolo è nato 5 anni dopo Maria e allora vuol dire che Paolo avrà 5 anni in meno rispetto a Maria. Indicando con x gli anni di Maria allora Paolo avrà x meno 5 anni. Sappiamo poi che tra tre anni sappiamo poi che fra tre anni l'età di Maria sarà il doppio di quella di Paolo. Tra tre anni Maria avrà x più tre anni ossia l'età attuale andiamo a sommare tre anni. Facciamo la stessa cosa con l'età di Paolo ossia di x meno 5 anni aggiungiamo tre anni e allora vuol dire tra tre anni Paolo avrà x meno 2 anni. Utilizziamo ora questa affermazione per scrivere l'equazione ossia l'età di Maria tra tre anni che è pari a x più 3 risulterà essere il doppio di quella di Paolo e allora scriverò 2 per l'età che Paolo avrà tra tre anni ossia x meno 2. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Dopo aver svolto questa moltiplicazione portiamo 2x a sinistra e 3 a destra. Sommiamo le x e sommiamo i numeri ottenendo meno x uguale meno 7. Moltiplicando tutte e due i membri per meno 1 otteniamo x uguale 7. Abbiamo in questo modo determinato l'età di Maria. Andiamo ora a determinare l'età di Paolo sostituendo qui al posto di x 7 ed otteniamo che Paolo ha due anni. Suddividi un insieme di 55 persone in tre gruppi in modo che nel secondo gruppo ci siano 5 persone in più che nel primo e nel terzo gruppo ci siano il doppio delle persone che ci sono nel secondo. Se indichiamo con x il numero di persone che sono presenti nel primo gruppo sappiamo che nel secondo gruppo devono esserci 5 persone in più che nel primo e allora nel secondo gruppo dovranno esserci x più 5 persone. Sappiamo inoltre che nel terzo gruppo devono esserci il doppio delle persone che ci sono nel secondo. nel secondo gruppo ci sono x più 5 persone e allora nel terzo gruppo ci saranno 2 che moltiplica x più 5 persone, ossia il doppio delle persone che sono presenti nel gruppo. Sappiamo poi che in totale vi sono 55 persone e allora posso andare a scrivere che il numero di persone del primo gruppo più il numero delle persone del secondo gruppo più il numero delle persone del terzo gruppo devono essere uguali a 55. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Dopo aver svolto questa moltiplicazione sommiamo le x e sommiamo 5 con 10 ottenendo 15. Portando a destra e sommando con 55 otteniamo 40. Dividendo poi tutte e due i membri per 4 possiamo semplificare il coefficiente della x. A destra mi rimane 40 diviso 4 che risulta essere pari a 10. In questo modo abbiamo determinato il valore della x che corrisponde al numero delle persone del primo gruppo e quindi nel primo gruppo vi saranno 10 persone. Nel secondo gruppo vi saranno 10 più 5 persone, ossia 15 persone. E nel terzo gruppo vi saranno 30 persone. Sommando poi 30 con 15 più 10 riotteniamo effettivamente il totale che risulta essere 55. In un parcheggio ci sono moto e automobili. Sapendo che le ruote sono 240 e che in tutto ci sono 66 veicoli, calcola il numero delle moto e quelle delle auto. Se indichiamo con x il numero di moto presenti in questo parcheggio, sapendo che in totale vi sono 66 veicoli necessariamente il numero delle auto sarà pari a 66 meno x. Infatti, se sommiamo x con 66 meno x, riotteniamo in totale 66 veicoli. Sappiamo poi che in totale vi sono 240 ruote. Tenendo presente allora che una moto ha due ruote e un'auto ha quattro ruote, posso dire che il numero delle ruote di una moto per il numero delle moto più il numero delle ruote di un'auto per il numero delle auto che è pari a 66 meno x mi deve dare il totale delle ruote, ossia 240. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Dopo aver svolto questa moltiplicazione sommiamo 2x con meno 4x, ottenendo meno 2x. Portiamo 264 a destra e sommando con 240 otteniamo meno 24. Moltiplicando tutte e due membri per meno 1 e poi dividendo tutte e due membri per 2, a sinistra possiamo semplificare e otteniamo 24 diviso 2, che risulta essere pari a 12. In questo modo determinando il valore della x abbiamo determinato il numero delle moto, che corrispondono a 12 autoveicoli. Di conseguenza le auto saranno pari a 66 meno 12, ossia vi sono 54 auto. In una classe un terzo degli allievi sono stati promossi con debito e 18 sono stati promossi senza debito. Da quanti alunni è formata la classe? Indichiamo con x il numero degli alunni della classe. Sappiamo che un terzo degli allievi è stato promosso con debito e gli altri, quelli senza debito, sono 18. Sommando gli alunni promossi con debito e senza debito dobbiamo avere gli alunni totali, ossia x, e allora posso andare a scrivere un terzo x, ossia un terzo degli allievi che sono stati promossi con debito, più gli alunni senza debito, che sono 18, devo ottenere x. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo, semplificando i denominatori, portiamo 3x a sinistra e 54 a destra, ottenendo x meno 3x uguale meno 54. Sommando le x otteniamo meno 2x uguale meno 54, moltiplichiamo per meno 1 ed ora dividiamo tutti e due membri per 2. In questo modo semplifichiamo il coefficiente della x. A destra, 54 diviso 2, dà 27 ed in questo modo abbiamo determinato gli alunni della classe che sono 27. Un'associazione ha 500 iscritti e prevede un aumento di 20 iscritti all'anno. Un'altra ne ha 450 e prevede un aumento di 30 iscritti all'anno. Supposto che si verificano queste previsioni di crescita, dopo quanti anni le due associazioni avranno lo stesso numero di iscritti? Indichiamo con x il numero di anni che devono passare affinché le due associazioni abbiano tutte e due lo stesso numero di iscritti. Sappiamo che la prima associazione ha 500 iscritti e ogni anno aumentano 20 iscritti. Allora vuol dire che dopo x anni la prima associazione avrà 500 iscritti più 20 per x, ossia il numero di iscritti all'anno per il numero degli anni. Questa quantità dovrà essere uguale al numero degli iscritti dell'altra associazione che ne ha 450 più 30x, ossia 30 iscritti all'anno per il numero di anni che devono passare. Ho così un'equazione di primo grado che vado a risolvere. Dopo aver portato 30x a sinistra e 500 a destra, sommando, otteniamo meno 10x uguale meno 50, moltiplicando tutte e due membri per meno 1, e dividendo poi tutte e due membri per 10, possiamo semplificare il coefficiente della x, ottenendo x uguale 50 decimi, che corrisponde a 5, ossia le due associazioni dopo 5 anni avranno lo stesso numero di iscritti. Paolo dice a Marco, se ti dessi prima un terzo delle caramelle che ho e poi un quarto delle rimanenti, me ne rimarrebbero 12. Successivamente, dopo aver mangiato alcune caramelle senza averne date a Marco, Paolo incontra Andrea e afferma, se ti dessi prima un terzo delle caramelle che ho e poi un quarto di quelle che ti ho dato, me ne rimarrebbero 7. Quante caramelle ha mangiato Paolo? Indico con x il numero delle caramelle che in totale ha Paolo. Inizialmente Paolo dice, se ti dessi un terzo delle caramelle che ho, ossia al totale delle caramelle x viene tolto un terzo delle caramelle, ossia un terzo x, e poi un quarto delle rimanenti, e allora devo scrivere un quarto per x meno un terzo x. In questo modo gliene rimangono 12, e quindi scrivo uguale 12. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo, semplificando i denominatori, si ottiene 6x uguale 144. Dividendo tutte e due membri per 6, possiamo semplificare il coefficiente della x. A destra, 144 diviso 6 è pari a 24. Questo vuol dire che in totale Paolo aveva 24 caramelle. Leggiamo ora la seconda affermazione di Paolo. Sappiamo inoltre che Paolo ha mangiato un numero di caramelle che non conosciamo. Indichiamo con y il numero di caramelle che ha mangiato, e allora vuol dire che adesso Paolo avrà 24 meno y caramelle. Quando incontra Andrea, afferma se ti dessi un terzo delle caramelle che ho, e quindi vuol dire che al totale 24 meno y, andiamo a sottrarre un terzo delle caramelle, ossia un terzo di 24 meno y, e poi un quarto di quelle che ti ho dato, e quindi vado a scrivere meno un quarto di quelle che gli ha dato, ossia un quarto di un terzo per 24 meno y, dove questa quantità rappresenta le caramelle che gli ha dato, in totale gliene rimarrebbero 7, e quindi vado a scrivere uguale 7. Ho così un'equazione di primo grado che vado a risolvere. Dopo aver eseguito queste due moltiplicazioni, sommati numeri e portato a destra, otteniamo meno 7. Eseguiamo ora il minimo comune multiplo e andiamo a semplificare i denominatori. Sommando le y otteniamo meno 7y uguale meno 84, moltiplicando tutte e due membri per uno, e dividendo poi tutte e due membri per 7, otteniamo y uguale 12, che corrispondono al numero di caramelle che ha mangiato Paolo. La somma dell'età di Maria, Elisa e Silvia è 49, sapendo che Maria ha tre anni in meno di Silvia e che Elisa ai 16 quindicesimi degli anni di Maria determina l'età delle tre ragazze. Se indichiamo con x il numero degli anni di Silvia, sappiamo che Maria ha tre anni in meno di Silvia e allora Maria avrà x meno tre anni. Sappiamo inoltre che Elisa ha i 16 quindicesimi degli anni di Maria e quindi vuol dire che Elisa avrà 16 quindicesimi di x meno tre. Sappiamo poi che la somma dell'età delle tre ragazze è 49 e allora posso scrivere x meno tre più 16 quindicesimi di x meno tre più x uguale 49. Ho così un'equazione di primo grado che va da risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo e semplificati i denominatori, sommiamo le x e sommiamo i numeri. Portiamo meno 93 a destra e sommiamo con 735, ottenendo 828. Dividiamo ora tutte e due membri per 46 e semplifichiamo il coefficiente della x e 828 diviso 46 è pari a 18. In questo modo abbiamo determinato l'età di Silvia. L'età di Maria sarà pari a 18 meno tre, ossia 15. Ed infine possiamo determinare l'età di Elisa. Visto che x meno tre è pari a 15, 15 lo posso semplificare con 15 e allora vuol dire che Elisa ha 16 anni. Sommando poi 15 con 16 con 18 effettivamente riotteniamo 49. Si vuole formare la somma di 8 euro utilizzando 25 monete, alcune da 20 centesimi, altre da 50 centesimi. Quante monete da 20 centesimi e quante da 50 centesimi occorrono? Indichiamo con x il numero di monete da 20 centesimi. Visto che in totale il numero di monete che dobbiamo utilizzare sono 25, necessariamente il numero di monete da 50 centesimi sarà pari a 25 meno x. Lo scopo è capire quante monete da 20 centesimi e da 50 centesimi mi servono per formare 8 euro. E allora posso dire il numero di monete da 20 centesimi x per il valore della moneta che è pari a 0,20 euro più il numero di monete da 50 centesimi che è pari a 25 meno x per il valore della moneta da 50 centesimi che è pari a 0,5 deve dare un valore complessivo di 8 euro e quindi scrivo uguale 8. Ho così un'equazione di primo grado che va da risolvere. La prima cosa che andiamo a fare è scrivere sotto forma di frazione 0,20 e 0,50 ottenendo un quinto e un mezzo. Effettuiamo il minimo comune multiplo e poi semplifichiamo i denominatori. Sommiamo le x e portiamo 125 a destra. Moltiplichiamo tutte e due i membri per meno 1 ottenendo 3x uguale 45. Dividiamo tutte e due i membri per 3 e semplifichiamo il coefficiente della x e 45 diviso 3 è pari a 15. Ciò vuol dire che serviranno 15 monete da 20 centesimi e tenendo presente che le monete da 50 centesimi sono pari a 25 meno 15 risulta essere pari a 10, ossia serviranno 10 monete da 50 centesimi. Si vuole dividere la somma di 12.000 euro fra tre persone in modo che la prima persona riceva un terzo di quanto riceve la seconda e che la terza riceva 1000 euro in più della metà di quanto riceve la seconda. Come va ripartito il denaro? Indichiamo con x il numero di soldi che riceverà la seconda persona. Sappiamo che la prima persona dovrà ricevere un terzo di quanto riceve la seconda e quindi la prima persona riceverà un terzo x. Inoltre sappiamo che la terza persona deve ricevere 1000 euro in più della metà di quanto riceve la seconda e quindi posso scrivere un mezzo x più 1000. La somma di queste tre quote deve essere uguale a 12.000. Ottengo così un'equazione di primo grado che va da risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo e semplificando i denominatori, sommando le x e portando 6.000 a destra otteniamo 11x uguale 66.000. Dividiamo tutte e due membri per 11. In questo modo posso semplificare il coefficiente della x e 66.000 diviso 11 è pari a 6.000. In questo modo abbiamo determinato la quota della prima persona che corrisponde a 6.000 euro. La prima persona riceverà un terzo di 6.000, ossia 2.000 euro. E la terza persona riceverà la quota della metà della seconda, ossia 6.000 diviso 2 che è pari a 3.000 più 1.000 e quindi riceverà 4.000 euro. Vediamo quest'ultimo esempio. Paolo spende un terzo della somma che possiede, poi spende un mezzo della somma rimasta e a quel punto gli restano nel portafoglio 60 euro in meno di quello che aveva in origine. Quanto aveva Paolo nel portafoglio? Indichiamo con x il totale degli euro che Paolo aveva in totale. Sappiamo che spende un terzo della somma che possiede e quindi ad x andiamo a sottrarre un terzo x. Poi spende un mezzo della somma rimasta e quindi vado a scrivere un mezzo di quello che gli rimane, ossia x il totale meno quello che ha speso, un terzo x. A questo punto gli restano 60 euro in meno di quello che aveva in origine, ossia questa quantità deve essere uguale a quello che aveva all'inizio, ossia x meno 60 euro. Ho così un'equazione di primo grado che vada a risolvere. Eseguo questa moltiplicazione e poi osservo che ho una x a sinistra e una x a destra che posso semplificare. Calcolo ora il minimo comune multiplo. Posso ora semplificare i denominatori e sommo le x ottenendo meno 4x. Moltiplico tutti e due i membri per meno 1 e poi vado a dividere tutti e due i membri per 4. In questo modo semplifico il coefficiente di fronte alla x e 360 diviso 4 è uguale a 90 e allora vuol dire che Paolo inizialmente aveva 90 euro. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere problemi reali con le equazioni di primo grado.